Cari spettatori di Italia Gossip Express, siamo qui con una notizia che ha mandato onde d'urto attraverso il mondo della televisione. Nel cuore di una serata di notizie apparentemente tranquilla, la popolare conduttrice del telegiornale è stata al centro di uno scandalo senza precedenti. Benvenuti su Italia Gossip Express. Oggi vi portiamo uno scoop che ha scosso il mondo dell'informazione. La conduttrice del telegiornale, mentre forniva gli ultimi aggiornamenti sulla cronaca internazionale in diretta, è stata sorpresa in un momento imbarazzante che ha catturato l'attenzione di milioni di telespettatori. Mentre la conduttrice indossava un elegante completo, gli occhi attenti dei telespettatori hanno notato qualcosa di inaspettato, sembra che sotto non ci fosse traccia di biancheria intima. L'incidente è stato immortalato da telespettatori pronti con i loro smartphone ed è diventato immediatamente virale sui social media. Le immagini della conduttrice senza mutande hanno fatto il giro del web, scatenando reazioni sorprese e divertite da parte degli spettatori. Alcuni fan hanno espresso solidarietà, sottolineando quanto sia facile incappare in situazioni imbarazzanti durante una trasmissione indiretta. Altri, invece, hanno speculato se si trattasse di un incidente involontario o di una mossa pubblicitaria per attirare l'attenzione. Fino a questo momento, la redazione del telegiornale non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'accaduto, lasciando i telespettatori con la curiosità di scoprire come la situazione verrà gestita. Nel frattempo, la conduttrice è diventata il centro di accesi dibattiti sui social media, trasformando uno scivolone imprevisto in un evento mediatico da non dimenticare. Restate con noi su Italia Gossip Express per gli aggiornamenti su questa incredibile vicenda che continua a tenere tutti con il fiato sospeso.